Siamo con Enrico Mariani, pilota della DD Onlus dei diversamente disabili. Enrico Mariani di professione odontoiatra con un volatorio in via Emilia Romagna 188 a Cattolica presso il quale ha un centro di ascolto che dà informazioni riguardanti disabilità per conseguire la patente speciale A tramite la sopracitata Onlus. Circa dieci anni fa, vittima di un incidente stradale, sono stato amputato in maniera transtibiale alla gamba destra, con grave compromissione della funzionalità del ginocchio e sempre a seguito di questo trauma mi hanno operato per uno stento aortico per escludere un aneurisma. Circa due anni fa sono venuto a conoscenza di una Onlus, DD, che è acronimo di diversamente disabili. questo team è formato da piloti artolesi o amputati. Ci accomuna il desiderio di non arrenderci, il desiderio di guardare avanti, di poter aiutare chi nelle nostre stesse condizioni non riesce a uscirne. partecipiamo al CIV, alla Coppa Italia, all'interno della Coppa Italia siamo e partecipiamo al trofeo Bridgestone e quindi abbiamo un campionato di cinque gare nei maggiori autodromi italiani, quindi Mugello, Misano Adriatico, Imola, Vallelunga. Corriamo con normodotati in griglie di 30-35 piloti, di cui la gran parte, perché noi siamo un'andozzina, tutti normodotati. Il nostro intento non è il giro veloce o la velocità massima in circuito, il nostro intento è quello di portare alla luce quello che sono i disagi e le problematiche di chi subisce gravi traumi. Quindi durante questi eventi sportivi siamo un centro di ascolto per chi desidera modificare la macchina, la moto, il quad per tornare ad essere autosufficiente nella vita di tutti i giorni. Siamo un centro di ascolto e un riferimento per fare, indirizzare dove fare, con che tecnologia, protesi ortopediche. Quindi è questo il nostro obiettivo, quello di dare forza, voce a chi subisce questi traumi. La pista è peraltro il posto migliore per, come posso dire, dedicare la passione del motociclismo. Certo anche in pista succedono eventi tragici, ma in percentuale minima rispetto a quello che sono purtroppo le vicende che tutti i giorni noi vediamo in strada. Il fondamentale per questo team è stato l'idealgomme di Luca Raggi di Fabriano. È importante l'idealgomme di Fabriano perché assieme alla Bridgeton Italia Luca Raggi ci fornisce a noi DD le gomme, i treni di gomme per poter partecipare alle gare e prezzi particolarmente vantaggiosi per l'iscrizione al campionato e anche per quello che riguarda l'iscrizione alla gara. Come DD siamo riusciti ad organizzare il primo DD Cup al mondo, la prima gara riservata ad Artolesi o amputati al mondo che si è disputata a Vallelunga. Il secondo DD Cup verrà vissuto, verrà portato al Mugello il 24 di agosto. Ognuno di noi ha le proprie problematiche dovute ad amputazioni o per chiaro l'eso. Abbiamo amici che hanno lo strappo del palesso brachiale o parziale paralisi degli arti superiori. Ognuno di noi ha dovuto ideare un ausilio, modificare la protesi per poter portare avanti questa passione, questa guida e personalmente una torneria meccanica di precisione di Pesaro e Pagnini e gli suoi figli hanno ideato questa protesi in materiale Ergal, quindi leggerissimo, che mi permette di tornare a guidare la moto non avendo io la flessione del ginocchio, non avendo come portatore di protesi la caviglia questa azienda ha ideato e creato questa protesi per permettermi di rimanere in sella nel miglior modo possibile e come me e tutti gli altri ragazzi, questa grande famiglia. Abbiamo avuto come testimonial della diversamente disabili persone dello spettacolo sportivo e la nostra madrina è Annalisa Minetti che ha girato in autodromo al Mugello come passeggero su una moto biposto di Manuel Poggiali ed è la nostra testimonial dei DD. Che sono come me diversamente disabili, specialmente abili, che mi piace tanto e c'è questa passione che muove il mondo, che ha mosso anche loro nei confronti del loro sport, della loro disciplina e sono come me innamorati della vita, quindi sono tanti fattori in comune e io sarò con loro, spero per tanto tempo, la loro testimonia, la loro madrina, il volto di diversamente disabili. Annalisa Minetti, la nostra madrina, cantante e vincitrice a Sanremo, vincitrice alle pareolimpiadi, è una persona di un carisma, di un'umanità, di una vivacità unica, è veramente un piacere passare il giorno con lei e i box e quindi averla come ospite, averla come testimonial e stata anche a Cattolica, al Teatro La Regina, dove ero stato invitato come ospite e dove ha manifestato e fatto vedere dei filmati con noi DD. Ripeto, tutto questo viene fatto per esorcizzare l'accaduto, per dare aiuto a chi non esce da situazioni meno difficili o drammatiche della nostra e un punto di riferimento per cercare di aiutare chi nelle nostre condizioni non riesce a trovare la forza sufficiente per uscire. Anche Paolo Simoncelli, Mattia Pasini, De Angelis e tanti altri piloti hanno dato la loro solidarietà. Io penso che questi sono dei matti, la parola giusta per loro è che sono dei matti, matti veri a cui va tutta la mia ammirazione e il rispetto perché veramente fanno delle cose ma la cosa che secondo me è più importante è che loro corrono, non in una loro categoria ma corrono insieme agli altri. Ho assistito a una scena di un ragazzo che gli mancava un braccio, una gamba, e gli ha tirato una mano, sono dei grandi e io li ammiro. Come Onlus abbiamo organizzato a Vallelunga una giornata che abbiamo chiamato DD Day dove Honda ha fornito 10 moto più posto di cui una ce l'ha poi omaggiata alla DD e ci sono stati piloti come Lucio Cicchinello, come Michel Fabrizio, Fabio Massei e tanti altri che hanno portato disabili non vedenti e tanti disabili che hanno voluto provare l'emozione di girare in pista con campioni di motociclismo. E quindi è stata un'esperienza unica vedere la felicità di tante persone che hanno potuto in questa maniera avere il loro sogno. La mia Yamaha 1000 ha il numero di gara 229 questo perché le mie due figlie, Simone è nata il giorno 2, Sofia è nata il giorno 29 e quindi dalla data della loro nascita nasce il mio numero di gara 229. Federica, la mia compagna e mamma di Sofia e compagna nella vita con la quale ho avuto questo bruttissimo incidente che è stata una persona fondamentale per il mio recupero sia fisico ma soprattutto psicologico. Il dolore c'è fisico e psichico, il dolore psichico è di gran lunga superiore a quello fisico e Federica è stata fondamentale in questa mia rinascita. Grazie a tutti.